Mi chiamo Daniela Usai, sono la titolare insieme a mio marito della ditta Sorti di Carpi. Abbiamo cominciato 15 anni fa nel 1996 a produrre maglieria per nostro conto. Prima lavoravamo per conto terzi e così per scherzo abbiamo cominciato a produrre qualche articolino semplice di maglieria e visto che il mercato allora ti dava veramente soddisfazioni, pian pianino siamo andati avanti e siamo arrivati fino qui. Abbiamo cominciato a lavorare per grossisti in tutta Italia. Il nostro prodotto è prettamente made in Italy, anzi ci tengo a precisare che noi siamo di Carpi, praticamente la città dove tutti fanno i magliai. Abbiamo due marchi, Nicole e Charlotte, che praticamente l'abbiamo preso dal nome delle nostre figlie, per la signora con qualche anno in più ma che comunque vuole vestire con eleganza. E Carlotta B, che è il nome di una nostra figlia con l'iniziale del cognome. È un marchio dedicato alla signora più giovane e con questi marchi vendiamo sia in Italia che all'estero.